we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi tantissime novità nel video news di oggi per quello che riguarda l'evento della stagione due sì perché ieri nelle prime ore della serata sono stati decriptati un sacco di file di riguardanti il doomsday event quindi l'evento del giorno del giudizio ma vi farò vedere un bel po di video un bel po di cose prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video news e ora andiamo direttamente alla prima notizia di oggi è una roba veramente incredibile per tutti quelli che hanno seguito il mio percorso nel raggiungimento il mese scorso del livello 350 per la gold bar c'è qualcuno più fuori di testa di me ragazzi un ragazzo che si chiama talokan è attualmente la persona con il livello più alto di fortnite a livello 520 in questo momento e quello che sappiamo è che questo pazzo furioso gioca solo rissa squadre e lì ci avevamo preso scende in una location lutta tutto ed esce e lo fa per 16 ore al giorno ora io voglio dire quando io l'ho fatto per un mese per otto ore al giorno è stato devastante devastante non voglio sapere cosa voglia dire farlo per 16 comunque un applauso per lui è un pochettino fuori di testa ma tanta tanta roba e andiamo avanti invece con un altro argomento molto interessante ve lo ricordate questo tizio qua il fungo di cui vi ho parlato anche nel video di ieri ma vi avevo già parlato in un mesetto fa in un video di un mesetto fa beh adesso ci sono delle nuove informazioni innanzitutto il fungo dovrebbe essere reperibile solamente a foresta frignante quindi ne vedremo qualcuno in giro lo riconosceremo perché appunto la parte sopra ha dei puntini arancioni e l'effetto del fungo è che ci farà recuperare quasi tutto lo shield perché non si sa se 50 o 100 di shield ma lentamente quindi piano 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 e tra l'altro nei file decryptati sono stati anche trovati i file audio ve lo voglio far sentire ascoltate un po ragazzi che roba davvero molto molto divertente sono appunto dei dei simpatici effetti sonori credo che lo sentiremo quindi quando ci avvicineremo e sarà veramente facilissimo riconoscerlo vedremo secondo me arriverà nella stagione 3 non credo che abbia senso inserirlo adesso ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi e innanzitutto voglio anticiparvi una cosa mi da come leggiamo in questo post non prenderà la parte delle ombre quindi mi da rimarrà siccome sappiamo che nell'agenzia è della parte degli spettri rimarrà dalla parte degli spettri e tra l'altro sappiamo che nel futuro quindi anche qua probabilmente nella season 3 ci sarà sempre l'agenzia ma non avrà più nello stemma delle ombre nello stemma degli spettri quindi dovremmo capire un attimino che cosa succederà ovviamente non lo possiamo sapere fino a che non vedremo l'evento che sta per arrivare secondo me c'entra la schermata di caricamento che abbiamo trovato nella patch 12.60 dove c'è appunto questo tizio con un logo che è lo stesso logo presente sul cappello della re con expert che fa strage degli e degli scagnosi presenti all'agenzia quindi staremo a vedere che cosa succederà sicuramente non sarà più né degli spettri e né delle ombre ma parlando della roba bella interessante come vi anticipavo sbalabam sono stati decryptati i file riguardanti il doomsday event e ho anche degli spezzoni video come prima cosa eccoli qua ragazzi per tutti quelli che volessero sapere questa è la lista completa di tutti i file appunto decryptati ne leggiamo qualcuno tipo curve reader mask oppure leggiamo energy arms vedi quello è quello che mi interessa un po di più energy arms vorrebbe dire diamo l'energia per armare la doomsday device ovviamente quella sfera lì e parlando appunto di sfera energy waves quindi onde di energia parlando di quella sfera ecco qua degli altri file decryptati questa volta invece sono ovviamente con un colore che non dovete immaginare ve lo faccio vedere meglio questa ragazzi è proprio la sfera voglio farvi vedere il primo spezzone perché sarà diviso in tre stage l'attivazione della sfera vi faccio vedere il primo che è questo ragazzi guardatela lì dietro quindi come vedete questo è il terzo porca ci aveva bruciato il terzo ragazzi aspetta ma il porca di quella porca di quella porca questo è il primo ragazzi avevo tanto dovete già vedere quindi easy questo è il primo come vedete c'è una fonte di energia questo è il secondo invece guardate come l'energia diventa più attiva e questo invece è il terzo stadio dove porcaccia di quella porcaccia lo stiamo notando la doomsday device il doomsday device è veramente arrivato al massimo della sua potenza quindi come vi stavo facendo vedere in queste immagini questa è appunto l'energia che entra nella sfera ripeto dimenticatevi i colori non dovete vederli immaginatela trasparente mentre questa è la sfera della terza fase dove appunto ci sarà quelle ci saranno quelle vibrazioni all'interno che segnaleranno appunto o un guasto meccanico perché potrebbe anche essere un sovraccarico di energia e quindi mida stesso non riuscirà a controllare la sfera oppure tutto calcolato e quella è la fase finale che cosa succederà non lo sappiamo non ne abbiamo assolutamente idea però sappiamo un'altra cosa molto interessante se andiamo nel futuro in poche parole fra fra qualche giorno troveremo il lobby e non solo il timer per sapere l'ora esatta dell'evento di questa season 2 l'evento finale che appunto chiuderà la stagione 2 e ci porterà alla season 3 questa è un'immagine di come lo vedrete in lobby ma lo vedremo anche nella parte di mida proprio nel suo studio come vedete là sotto dove c'è la scrivania ci sarà il timer e poi quello che avevo già mostrato ieri il classico timer gigante sopra l'agenzia che segnerà appunto l'arrivo di questo evento insomma ragazzi oramai ci siamo noi ridiamo noi scherziamo ma abbiamo terminato quasi anche la seconda stagione di fortnite del capitolo 2 io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche oggi il video news mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao